Ormai è certo, tra Antonella, Edoardo, Dona Maria, è tutto finito. La speranza di tutti i donalisi è finita. Si è chiuso un sogno. Inutile ascoltare Daniele Dal Moro, che aveva detto che tra i due ci fosse la possibilità di ritornare assieme, anche per via di una vacanza che stava organizzando. Proprio lui per la coppia. Oggi con un tweet ha parlato Antonella e ha detto Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che mi possono destabilizzare. Grazie. Antonella vuole mettere un punto, perché non vuole più soffrire. E tutto di Edoardo lo fa soffrire ormai. Intanto anche Edoardo risponde dicendo di smetterla. Lui ha subito diffamazioni, pressioni psicologiche, insulti, minacce. Ed è stato in silenzio. Basta, altrimenti vuoterò il sacco. Riguardo a cosa sia davvero successo con la Fiordalisi e ha chiuso il suo profilo Twitter. Voi come la pensate di questo caos che si è generato intorno a loro?